Una lezione d'eccezione dedicata ai più piccoli, quella proposta dal professor Mangiafiabe e dalle sue alunne il 19 maggio all'Arena Piemonte. Lo spettacolo, curato da Fondazione Teatro Ragazzi e l'Associazione Culturale Turcacane, è stata un'occasione per sfatare una serie di luoghi comuni all'insegna del divertimento e dell'ironia. Ambiente, agricoltura e cibo genuino hanno rappresentato il perno attorno a cui sono ruotate le riflessioni del professor Mangiafiabe che attraverso giochi divertenti ha parlato di stagionalità, filiera corta e ciclo di vita delle piante.